Alla quarta elezione fumata bianca per il Quirinale, Sergio Mattarella è il nuovo presidente della Repubblica Italiana, il primo siciliano a ricoprire il prestigioso incarico. Il 74enne giurista palermitano di nascita è stato scelto oggi dai grandi elettori, ma conosciamo meglio la figura del dodicesimo presidente della Repubblica. Sergio Mattarella figura storica della democrazia cristiana e il fratello di Pier Santi, il presidente della regione Sicilia assassinato a Palermo il 6 gennaio del 1980. Si laurea in giurisprudenza a Roma, a città nella quale cresce assieme alla famiglia. Avvocato e professore di diritto parlamentare Mattarella appartiene infatti a una famiglia di solida tradizione democristiana e il padre Bernardo è stato più volte ministro della Prima Repubblica. Le sue radici democristiane sono profonde radicate dall'azione cattolica attraverso la DC, dal Partito Popolare di cui è stato uno dei principali rappresentanti fino alla Margherita. Ma il suo impegno politico rilevante parte all'indomani dell'uccisione del fratello, militante di C nella corrente di Aldo Moro e parlamentare dal 1983 al 2008. Mattarella ha anche una buona esperienza di governo, ministro per i rapporti con il Parlamento nel governo De Mita, ministro della difesa e vicepremier nel governo D'Alema. È conosciuto fuori dalla politica soprattutto per la spinta che diede alla nascita del primo sistema elettorale maggioritario ribattezzato appunto Mattarellum. Fu relatore delle leggi di riforma del sistema elettorale della Camera e del Senato che, recependo l'esito del referendum del 1993, introducevano un preponderante componente maggioritaria. La legge Mattarella fu impiegata per le elezioni politiche del 1994, del 1996 e del 2001. Fu sostenitore sin dal 1995 della candidatura di Romano Prodi alla guida di una coalizione di centro-sinistra, l'Ulivo, comprendente tra gli altri il PPI e il PDS. Fu confermato alla Camera dei Deputati alle elezioni del 1996 e venne eletto capogruppo dei popolari. Alle elezioni politiche del 2006 torna per la settima volta a Montecitorio nella lista dell'Ulivo. Nel 2007 fu tra gli estensori del manifesto fondativo dei valori del Partito Democratico, ma lo scioglimento anticipato della quindicesima legislatura il 28 aprile 2008 non si ricandidò. Il 22 aprile del 2009 è stato eletto alla Camera dei Deputati componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Il 5 ottobre 2011 in Parlamento, in seduta comune, lo ha eletto giudice della Corte Costituzionale.